Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e a tutte le ultime notizie, sgomento nella comunità trevigiana di Mogliano, Veneto per l'assassinio di Egle Bellunato trovata sgozzata nella sua casa in Ghana, in Africa, paese nel quale faceva la volontaria per l'omicidio ci sarebbe già un sospettato il convivente. Sentiamo cosa è successo nel servizio. Viveva in Africa da dieci anni Egle Bellunato che in Ghana aveva deciso di trascorrere la sua vita dedicandola alle opere umanitarie. L'omicidio della donna risale allo scorso 29 ottobre quando il suo cadavere è stato ritrovato all'interno del suo alloggio nel villaggio di Amazam, nel distretto di Gao, ovesta della capitale Accra. Solo in questione però la vicenda è arrivata in Italia. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, il corpo della 72enne è stato trovato riverso a terra nella camera da letto e presentava numerose ferite da taglio alla gola. L'allarme alle forze dell'ordine locali è giunto dal compagno della donna, un operaio 62enne Luigi Serradura, originario di Solagna nel Vicentino, anche lui volontario. Sull'uomo però sono immediatamente caduti i sospetti della polizia locale che a qualche ora dell'omicidio ha provveduto ad arrestarlo. L'uomo infatti dovrà chiarire alcuni contorni della vicenda che risultano tutt'altro chiari, prima o fra tutti il perché abbia atteso 24 ore prima di denunciare il ritrovamento del cadavere. Serradura avrebbe però un alibi per il momento dell'omicidio confermato da un amico dell'uomo, anche egli di origine italiana. I due anni infatti dichiarato di essere stati occupati a fare la spesa. Al suo rientro l'operaio avrebbe trovato la porta socchiusa e la stanza in disordine, per questo ipotizza si possa essere trattata di una rapina finita nel sangue. Egle Bellunato in passato era stata sposata con Deliso Villa, scrittore e fondatore dell'Associazione per la Difesa e la valorizzazione dell'immigrazione e direttore per 15 anni del settimanale Eco d'Italia, stampato a Parigi. E restiamo ancora su questo argomento perché sulla tragica vicenda questa mattina è intervenuta anche la moglie di Serradura, l'uomo detenuto in Ghana perché ritenuto il possibile responsabile del delitto. Bisogna fare qualcosa per mio marito, bisogna aiutarlo. È l'appello lanciato a Solagna nel Vicentino da Uliana Moressa. La donna, 59 anni, insieme ai due figli Alessandro e Marco è convinta dell'innocenza del marito che l'aveva chiamata mercoledì scorso raccontando l'accaduto. La signora Moressa peraltro non vuol sentir parlare di una relazione tra i due nonostante il marito si fosse allontanato da casa per raggiungere il Ghana quattro anni fa e dell'innocenza di Serradura è convinto anche il figlio della vittima che ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa che lo ha raggiunto telefonicamente a Bologna, città nella quale l'uomo risiede. Adesso cambiamo completamente argomento. A Padova un grande sospiro di sollievo. La polizia padovana la scorsa notte ha sottoposto a fermo l'autore della brutale rapina compiuta in via San Biagio ma che potrebbe essere anche il rapinatore seriale che aveva terrorizzato la città. L'aggredito di ieri, il sesto caso intanto è stato dimesso nella serata di ieri dall'ospedale, una prognosi di 30 giorni. Intenso il lavoro delle forze dell'ordine ma sentiamo tutti i dettagli su chi è quest'uomo fermato e come gli investigatori sono arrivati a lui. Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l'autore della brutale rapina compiuta nella mattinata di lunedì in via San Biagio a Padova. L'uomo che ha confessato il colpo viene ritenuto il presunto autore delle altre cinque rapine compiute in città ai danni di persone che si sono trovate improvvisamente a terra con la testa rotta e derubate dei soldi che avevano in tasca. Le indagini della polizia si sono concentrate su un frame raccolto da una telecamera di sorveglianza dopo l'aggressione in via Tirana. Una foto ripresa di spalle che è stata confrontata con grande attenzione dagli agenti e comparata con le immagini di persone pregiudicate. Tracciato il profilo e individuato il possibile soggetto sono scattate le ricerche coordinate dal pubblico ministero Roberto D'Angelo. Abbiamo elementi che chiaramente sono stati portati in visione al pubblico ministero che sta coordinando questa attività per cui possa essere anche l'autore degli altri episodi che a partire dal mese di ottobre avevano creato molta allarme in città. Gli agenti lo hanno pedinato per tre giorni, lo hanno seguito in borghese anche con l'utilizzo di bici, scooter o a piedi. Erano alcuni giorni che questo soggetto aveva un interesse particolare investigativo e quindi d'intesa con il pubblico ministero che ha coordinato l'attività abbiamo iniziato questo pedinamento che ha confermato che potesse essere lo stesso soggetto, ripeto, videoripreso in una circostanza da una telecamera. Individuato anche il numero di cellulare usato dal fermato, il confronto con la cella telefonica ha confermato che al momento della rapina si trovava in via San Biagio. Quando ha eseguito il colpo è stato l'unico momento nel quale gli agenti lo avevano perso di vista tra le vie del centro. Il fermato si chiama Pierluigi Castellani, ha 52 anni, nato a Cremona, ha una serie di reati alle spalle, uno pesantissimo per omicidio durante una rapina, delitto avvenuto in una città del nord Italia. Ha un reato piuttosto grave, un omicidio di alcuni anni fa per il quale ha scontato una pena e nel mese di marzo scorso aveva cessato di essere in carcere. Il dottor Calì, dirigente della squadra mobile, ha sottolineato la bravura dei suoi collaboratori che hanno lavorato sodo con intuito e determinazione. Al vaglio in questi giorni anche i luoghi frequentati da sbandati, verifiche sono state eseguite al CERT ma anche al Torresino dove il 52enne dormiva. Il fermo è avvenuto in un bar del portello dove il criminale si era seduto tranquillamente a mangiare. Prima di raggiungere il locale si era sbarazzato della mazza gettandola nel piovego. Raggiunto dai poliziotti ha tentato di opporsi ma poi si è arreso. In una prima perquisizione in tasca aveva solo 50 euro ma in una cerniera ricavata intorno al collo del giubbino che indossava aveva nascosto il frutto della rapina appena compiuta. Al momento Castellani ha ammesso solo la rapina di via San Biagio ma tutti gli elementi raccolti portano ad attribuirgli anche gli altri cinque colpi. Era vestito come nella foto scattata in via Tirana, cambiavano i pantaloni, quel giorno erano di colore beige e quei calzoni sono stati ritrovati al dormitorio del Torresino. Attesi per i prossimi giorni tutti gli esiti sulle analisi chimiche effettuate sui reperti recuperati dopo le rapine. Esiti che permetteranno di attribuirgli o meno tutte le rapine. La convalida del fermo dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì. Ripeto la soddisfazione è ampia e ha visto il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine e della Procura della Repubblica in quanto erano episodi che stavano suscitando giustamente gravissime allarme sociali. Sono 29 le perquisizioni eseguite questa mattina in varie regioni italiane dagli agenti del compartimento della Polizia Postale Toscana in collaborazione con i compartimenti di altre regioni nei riguardi di altrettante persone accusate di detenzione e condivisioni di immagini e video a contenuto pedopornografico. Quattro le persone che sono state arrestate in flagranza poiché trovate in possesso di materiale pedopornografico. Le perquisizioni sono state eseguite in varie regioni tra le quali anche il Veneto e il Friuli. Potrebbe essere stato risolto il giallo della morte dell'enologo di Conegliano della provincia di Treviso assassinato a Latina lo scorso settembre. Sentiamo. Sarebbero giunte ad una svolta le indagini sull'omicidio di Ulrico Cappia il 58enne di Conegliano di professione enologo. Ad esserne sicuri i carabinieri di Latina che stamane hanno eseguito il fermo di Giuseppe Ruggeri disoccupato a 58enne residente a Itri ritenuto responsabile dell'omicidio. L'assassinio risale lo scorso 4 settembre, giorno in cui il corpo di Cappia venne ritrovato all'interno della sua auto in un campo della località laziale. Qualcuno aveva prima sparato il professionista e poi dato alle fiamme il suo cadavere. A compiere il delitto, secondo i militari dell'arma, sarebbe stato il 58enne ex dipendente dell'azienda per cui lavorava il professionista trevigiano che avrebbe maturato un desiderio di vendetta legato a dissapoli lavorativi. Sembra infatti che l'uomo non fosse stato assunto come lavoratore stagionale e per questo avesse nei mesi antecedenti l'omicidio messo in atto una serie di atteggiamenti minatori contro l'enologo, fra cui vari danneggiamenti alla sua auto. L'operai era stato sentito dai militari dell'arma nelle ore immediatamente successiva al delitto e la sua auto era stata posta sotto sequestro il giorno dopo l'omicidio. L'assassino si trova ora nel carcere di Cassino in attesa della convalida del magistrato. Un vicentino di 57 anni, Giorgio Nicente, morto stamane mentre era in bicicletta dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Viale della Pace nella zona est del capoluogo Berico. L'uomo tecnico della Telecom si stava dirigendo al lavoro pedalando sulla sua due ruote quando per causa ancora al vaglio della Municipale è stato investito da un camion in manovra guidato da un cittadino straniero. Dopo l'urto il camionista si è subito fermato, ha prestato i soccorsi ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo del 118. Hanno dato esito positivo le ricerche del pirata della strada che lunedì aveva investito un ciclista a Padova dandosi poi alla fuga. Sentiamo i risvolti nel servizio. Si sono concluse le ricerche dell'automobilista che lunedì ha investito un ciclista dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Il pirata della strada è un quarantenne di San Zenone degli Ezzelini nella provincia di Treviso che ieri si è presentato ai vigili urbani di Padova. L'uomo è stato invitato a presentarsi dagli agenti locali che sono riusciti a risalire la sua identità grazie ad alcuni testimoni dell'incidente che avevano annotato la targa del veicolo pirata. Il trevigiano ha ammesso le sue colpe e ha spiegato di essersi allontanato in preda al panico ma di vero atteso da lontano che arrivassero i soccorsi. Lo scontro tra l'auto e la bicicletta era avvenuto alle 15 all'altezza della rotatoria che si trova fra le vie Pescarotto e Venezia mentre sulla città scendeva una pioggia persistente. A terra era rimasto un trentenne di origini marocchine residente in città e tuttora ricoverato per accertamento all'ospedale civile di Padova. L'automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso all'uomo e è stata inoltre sospesa la patente. Si chiama assenza ingiustificata ed è il nome di una sagoma di cartone che riproduce la forma di una figura femminile senza volto. Sarà esposta in tutti i luoghi di passaggio pubblico della città al fine di ricordare le innumerevoli vittime di violenza contro le donne. L'iniziativa è stata presentata oggi a Treviso ed è promossa dalla Commissione Intercomunale per le pari opportunità di vari comuni della provincia. La sagoma sarà utilizzata anche in progetti educativi dell'azienda sanitaria locale nelle scuole superiori volta alla sensibilizzazione sul tema delle differenze di genere. E adesso parliamo del passaggio delle grandi navi a Venezia. Oggi sono state molte le novità. Sentiamole. Da Palazzo Chigi sono arrivate le novità sul passaggio delle grandi navi in Bacino San Marco a Venezia. In attuazione al decreto Clini Passera sarà vietato il transito delle navi attraverso il canale della Giudecca. È stata prevista una nuova via d'accesso alla marittima, già individuato il percorso attraverso il canale Contorta Sant'Angelo. Lo stop comunque non sarà immediato ma ci saranno vari cambiamenti nei prossimi mesi fino ad arrivare, secondo le previsioni, al blocco del passaggio dei mezzi superiori alle 96.000 tonnellate tra un anno. Nei prossimi mesi comunque, per i lavori del Mose, la situazione potrebbe già avere delle deviazioni per una durata di sei mesi. Con l'inizio del nuovo anno verrà avviato lo stop al passaggio dei traghetti. Da aprile 2014 a novembre 2014 saranno consentiti i passaggi ma dovranno essere ridotti al 20% gli accessi delle navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. Da novembre 2014, fuori dalla laguna, le navi di stazza superiore a 96.000 tonnellate. Queste sono le ultime novità, anche se non sono state escluse eventuali altre considerazioni. Al vaglio anche la possibile realizzazione di un nuovo terminal croceristico a Marghera. Contestazioni sono giunte da parte dell'associazione Cruise Venice e dal comitato No Grandi Navi che non si sentono di commentare gli sviluppi in maniera trionfale. Le novità di oggi non vengono ritenute soddisfacenti e certe. Nel veneziano gli uomini delle volanti della polizia hanno sorpreso un uomo che nella notte stava rubando gasolio da un camion fermo in un cantiere. Gli agenti sono intervenuti sulla segnalazione di un passante. Quando sono arrivati sul posto l'uomo stava riempiendo le taniche di carburante. Condotto in questura è stato denunciato. Denunciato anche un cittadino georgiano sorpreso mentre tentava di rubare un'auto parcheggiata in via Felisati a Mestre. L'uomo è stato portato in questura. Con sé aveva vari arnesi atti allo scasso che gli servivano ovviamente per mettere in atto i suoi colpi. È stato denunciato per furto aggravato ma anche per clandestinità e porto di oggetti atti ad offendere. In meno di un mese, restiamo ancora nel territorio veneziano, in meno di un mese hanno già raggiunto la metà delle firme necessarie per la separazione. I separatisti continuano ad ottenere consensi e presto Mestre e Venezia potrebbero dividersi. Ascoltiamo. In soli 30 giorni hanno raccolto ben 3.500 firme e il loro percorso è ora a metà. Ne rimangono adesso da raccogliere altrettante per poter chiedere il referendum. Gli sforzi su questo fronte si stanno impegnando varie associazioni, sono tutti per la separazione. Per abbattere, anche se solo in maniera figurata, quel ponte della libertà che unisce terraferma e laguna e dividere una volta per tutte Mestre e Venezia. Visto il successo della raccolta firme, il pronostico è quello di arrivare al traguardo entro Natale, così da poter poi depositare tutto l'incartamento e attendere i sei mesi necessari per legge al fine di ottenere il tanto desiderato referendum consultivo e affrontare così una volta per tutte l'annosa questione. La ciliegina sulla torta sarebbe quella di presentare il pacchetto completo il 25 marzo, ovvero la data in cui la leggenda vuole sia stata fondata a Venezia. I tempi sono un po' stretti, ne sono consapevoli i comitati promotori, che però stanno già pensando che se tutto, ma proprio tutto, filera liscio, il referendum potrebbe venire abbinato alle elezioni europee nel maggio del 2014. Per questo la raccolta firme nei prossimi giorni si intensificherà con banchetti venerdì in Via Lazzari in occasione del mercato e domenica al Parco Bissuola e a seguire a Favaro e Chirignago. L'ultimo referendum per la separazione risale al 2003, quando il quorum non venne raggiunto perché al voto si presentò meno del 40% degli elettori. Ancora la città lagunare in primo piano, la stazione navale della Guardia di Finanza è dotata da qualche giorno di un nuovo guardacoste. L'unità è destinata ad assolvere i compiti in materia di vigilanza doganale, pattugliamento delle coste per la repressione dei traffici illeciti via mare, polizia economica finanziaria. Il guardacoste è lungo 22 metri, largo 5,4 metri, ed ha un dislocamento di 56 tonnellate con un equipaggio di 12 militari. supera i 30 nodi di velocità, consentendo così agevolmente il pattugliamento marittimo anche a notevole distanza dalla costa. Buone notizie sul fronte della sicurezza stradale. Rispetto all'anno precedente i sinistri sono in diminuzione, anche se i numeri rimangono comunque ancora alti. 512 incidenti quotidiani nei quali perdono la vita 10 persone e ne rimangono ferite 723. Sono i dati contenuti nel rapporto annuale ACI-STAT che fotografano l'andamento della sicurezza stradale nel nostro paese. Ne emerge un quadro in cui, sebbene le cifre rimangono alte, il confronto con il 2011 risulta essere positivo. I sinistri infatti sono in calo del 9,2%, scendono anche i feriti del 9,3%, mentre i morti in percettuale calano di meno del 5,4%. Lo scorso anno si sono verificati oltre 186.000 incidenti stradali con lesioni rilevanti che hanno causato la morte di 3.600 persone, mentre 264.000 sono rimaste ferite. Il rapporto analizza anche quelli che sono i periodi tabù per la circolazione nel nostro paese con i periodi estivi che risultano essere i più pericolosi per muoversi. Giugno e luglio sono i mesi con la maglia nera, mentre se ci si spinge ad analizzare i giorni della settimana, quello peggiore risulta essere il venerdì. Più rischioso poi è mettersi in macchina dalle 18 alle 19, perché è durante quest'ora che avvengono più scontri. Tra le principali cause dei sinistri il rapporto elenca il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e le velocità troppo elevate. Se guardiamo a ciò che accade in Europa, il nostro paese è al tredicesimo posto, dietro tra l'altro a Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Ci spostiamo a Vicenza, dove l'ospedale San Bortolo apre le porte del reparto di rianimazione. Saranno infatti consentite visite libere anche nella durata e senza obbligo del camice per gli ospiti. Una scelta coraggiosa, anche se ovviamente basata su evidenze cliniche, ha spiegato Zaia, che costituisce un esempio da seguire nella sanità veneta, ma anche in quella italiana. Ogni occasione che viene data al paziente di sentire vicino il calore umano di un parente, un amico, una fidanzata, ha un immenso valore dal punto di vista psicologico. Non sono un medico, ha detto il Presidente della Regione, ma credo che per poter vivere sensazioni positive anche in situazioni difficili come un ricovero in rianimazione possa avere effetti anche sulla guarigione. Sono queste le parole con cui il Governatore del Veneto ha commentato la notizia. Confermato venerdì 8 novembre lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori dei porti. Lo riferiscono le segreterie nazionali di Filt, CGL, Fit, Cisla e Willa Trasporti, sottolineando che le motivazioni risiedono principalmente nella fase di stallo in cui il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale si è venuto a trovare con le posizioni dalle nostre controparti oltre a dieci mesi dall'inizio della trattativa. Ed ora uno sguardo alle condizioni meteo previste per la giornata di domani. Avremo il cielo da sereno a poco nuvoloso nella prima parte di giornata, poco o parzialmente nuvoloso tra il pomeriggio e la sera. In pianura foschie e nebbie fino a metà mattina e dopo il tramonto, maggiormente probabile a sud dell'asse Verona-Vicenza-Padova-Venezia. Anche nelle valli avremo locali riduzioni della visibilità durante le ore più fredde. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS